Per aver creato benessere ed occupazione sul territorio, per aver contribuito a valorizzare l'immagine del Molise fuori dai confini regionali, per l'impegno quotidiano nell'offrire servizi eccellenti all'utenza. Con queste ed altre motivazioni la Presidenza del Consiglio regionale ha insignito la Famiglia Ricci del Premio Eccellenza Molisana. La Presidenza del Consiglio regionale nell'ambito del progetto Molise Eccellente ha voluto riconoscere a diverse realtà della nostra regione che hanno espresso in maniera ampia e importante la molisanità. In questo contesto non poteva mancare la Famiglia Ricci con una realtà che ha realizzato nel Molise e per il Molise tanto. Sicuramente in diversi settori ha svariato su più aspetti, su più potenzialità, però l'ha fatto sempre in maniera eccellente. Quindi ha portato il nome del Molise fuori dai confini regionali, ma anche con spirito di resilienza ha realizzato tanto nel Molise. Quindi tante opportunità di lavoro sicuramente, tanto benessere e tanta ricchezza. L'ambito riconoscimento è stato consegnato dal Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, a Mirella Ricci, responsabile del ramo alberghiero del gruppo. Allora, ringherzo il Presidente del Consiglio regionale per questo attestato di stima nei confronti della mia famiglia. Mi sento di condividerlo con i nostri collaboratori che quotidianamente ci sostengono. Ancora grazie. ...diciamo, delle proprie attività fuori dai confini regionali, ma nello stesso tempo con resilienza ha realizzato tanto anche nel Molise. Quindi ha ricoperto entrambi...